Uno che secondo me ha queste caratteristiche che abbiamo avuto come compagno, che è devastante, è stato Tevez. Tevez? Cioè un giocatore bravo, forte, ma la sua differenza la faceva a livello caratteriale, perché incuteva timore agli avversari, li ammazzava psicologicamente. E come fa? Cioè una cattiveria, ma di una roba che... Cioè quando ti veniva addosso, quando tirava in porta, quando si doveva smarcare, Carlos era il numero uno. Grazie a tutti.